Ciao, sono la libreria Cavour Esoterica, sono una piccola realtà, ma grazie al tuo sostegno sono ancora qui. Se ti piacciono i nostri video, iscriviti al canale, è importante, ci permetterai di crescere e di avere gli strumenti per diffondere tutte le nostre iniziative. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Il tema della serata è un argomento caro a tutti, nel senso che caro ci costa avere questo incontro trasformativo con gli attacchi di panico, fenomeno molto frequente, diciamo di quelli che voi vedete in giro per strada, uno su quattro, ha senz'altro avuto, avrà presto, che ci sta pure il futuro ipotecato, avrà un attacco di panico o ce l'ha in corso. Cioè è una patologia che oggigiorno è molto frequente. Un tempo in ospedale si presentavano le donne che svenivano, avevano gli attacchi isterici, ai tempi di Freud, ora nessuno ha gli attacchi isterici, però molti hanno gli attacchi di panico e i pronto soccorsi sono parassitati da questa gente che viene con dei sintomi in genere di carattere somatico, batticuore, tachicardia, fibrillazione addirittura, senso di soffocamento, afonia, cecità temporanea, acufeni, sbandamenti, allora li mandano dall'otorino, gli fanno fare le tac, li mandano dall'omologo per vedere se non respirano bene, fanno l'attocardiogramma, prendono spesso anche delle terapie che regolano il ritmo, questi sono dei sedi principali, diciamo, anche dolori alla schiena, blocchi alla schiena, senso di nausea, vomito, impotenza, anche altre condizioni fisiche sono diciamo in primo piano quando le persone vanno al pronto soccorso, regolarmente arrivano dallo psichiatra, da me quando hanno visto che tutti questi esami sono negativi, allora il medico per torto collo diceva bene, si vede che sarà stress, che stress questa storia, perché voglio dire i medici di famiglia potrebbero anche essere un po' più aperti, ormai siamo nel 2020, anche al pronto soccorso, insomma, in ogni modo sono anche esami costosi e del tutto inutili, nel senso che certe sindrome sono molto facilmente riconoscibili, come che ne so, che uno abbia l'influenza, che uno abbia la febbre, si riconosce, è qualcosa questa sindrome che è chiaramente non di tipo fisico, poi certo uno può anche avere qualcosa di fisico in contemporanea, ma quella è, se fortuna, non è di agnosi, va bene, quindi questa è una patologia molto frequente e molto invalidante, queste persone che in genere fra i 15 e i 35 anni, con questi due picchi, prima dei 20 e dopo i 25-30, si trovano ad avere delle condizioni, adesso le descriviamo, di improvvisa disorientamento, paura, depersonalizzazione temporanea, non trovarsi più nella realtà derealizzazione temporanea, demotivazione, apatia, stanchezza, sintomi quindi legati come a non essere più quelli di prima, lo dicono proprio, non sono più quello di prima, sono cambiato, non sono più riuscito a essere quello di prima, mi aiuta il dottore a tornare come ero prima? e dico no, al massimo ti aiuto a diventare come puoi essere dopo. Poi un'altra serie di sintomi, sempre connessi con gli attacchi di panico, sono in primo piano invece, che sono di tipo energetico, cioè sono dei momenti di grande intensità di quello che la gente chiama ansia, per ansia intendono uno stato, una specie di stato orgasmico, di stato intensissimo di disagio, malessere, pressione, spesso pressione su questi punti fisici, ma anche di pressione dentro, al punto di avere una specie di tremore interno, quando Dante parla di mi fa tremare le vene e i polsi, parla di questo tremore interno, della paura, c'è un senso di paura, una paura a specifica, diciamo di morte in fondo, perché può essere che è paura di perdere il lavoro, paura di perdere la salute, paura che succeda qualcosa ai propri familiari, che possano morire e che tu stesso possa andare incontro a qualche forma di danno, no? E questo, dopo lo vediamo, quali cause attivano questi disturbi, però c'è sempre questa paura, questo senso di essere persi, di non poter controllare le cose, di disorientamento, un po' come una barchetta in mezzo al mare, ma questo comporta, dicevo, in questo aspetto energetico, spesso una grande intensità temporanea, una specie di picco energetico, una specie di sbalzo di pressione che può diventare anche uno sbalzo di pressione fisica, diciamo, ma di solito è uno sbalzo di pressione mentale. E poi c'è un'altra serie di sintomi che sono legati alle scomposte reazioni a questi fenomeni di disorientamento, allora uno cerca qualcuno che ti orienti, ad esempio le persone non possono stare da sole in casa, hanno paura di uscire da sole, cercano delle conferme di ogni genere, di tipo sanitario, di tipo economico, perseguono magari, che ne so, delle pratiche di invalidità, per poter non trovarsi senza… questo è un aspetto anche oggettivo, la gente effettivamente oggi ha meno soldi, però c'è spesso una paura di non avere proprio il terreno sotto i piedi e quindi le reazioni rivendicative, di controllo, di poter tornare indietro su una qualche forma di sicurezza e questa è una prima forma, il controllo, una seconda forma di reazione molto frequente è la fuga, la prima cosa nell'attacco di panico è evitare le condizioni in cui si sono manifestati i primi sintomi, per esempio se è stato nel sentirsi in un posto sovraffollato, c'era già un'apertura magari del campo mentale e c'è stato un senso di perdersi e di essere invasi, allora uno non va più in questi posti affollati, non va nei supermercati, non va nei posti chiusi o controlla comunque questa storia, evita magari il supermercato, ma se poi va al supermercato vede di andare a prendere gli oggetti che sono entro un raggio di 10 metri dalla porta d'uscita, per esempio, per fare un esempio, quindi controllo ed evitamento, che sono poi i fondamenti di quadri che in psichiatria si chiamano disturbi evitativi, attacchi di panico, disturbi, attacco di panico è un evitamento preventivo, abituale, cronico, delle situazioni che potrebbero mettere in difficoltà lì o di quella persona e quindi questo è un primo quadro caratterizzato più dal fenomeno evitativo, mentre un'altra serie di disturbi come disturbi ossessivo-compulsivi hanno più le caratteristiche di un controllo ossessivo ripetuto sulle condizioni eventualmente che potrebbero portare stress, disagio, crisi, sovvertimento, quindi ci sono quelli che controllano 40 volte il gas, quelli che devono vedere che tutte le mani sono pulite e sono asciugate sull'asciugamano pulito, ma poi se l'asciugamano pulito l'aveva messo qualcuno con le mani sporche, questo controllo diventa un incartarsi in questo fenomeno di difesa, un meccanismo di difesa che viene massimizzato, portato al suo parrossismo e quindi in qualche modo il rimedio diventa peggiore del male e diventa un quadro a sé, diventa un quadro in cui sei bloccato in una paura da cui non riesci a uscire proprio anche perché stai cercando di farci conti nel modo sbagliato, non lo stai accogliendo, non lo stai comprendendo, lo stai semplicemente contrastanto e sai chi vince e vince lui. Quindi questi quadri definendoli sono dei quadri in cui ci sono dei fenomeni, una crisi di identità, dei fenomeni energetici associati a questa crisi di identità e le reazioni dell'ego che è stato messo in difficoltà, che è mezzo morto ma è ancora mezzo vivo, è la parte mezza viva che fa un gran casino e dice io non ci sto a questo fatto di morire, morire psicologicamente, la morte è uno stato mentale, non stiamo parlando della morte fisica, stiamo parlando della paura della morte, la paura della morte dell'ego, la paura della perdita di controllo, di non essere più diciamo come identità incentrati su qualche cosa che è egocentrico, che è una condizione anche normale, ma è anche una forma come di sonno della coscienza che invece è universale e sta funzionando in modo locale e dimentica di se stessa come potenziale e come orizzonte. Quindi questo ritrovare se stessi di cui si parla nella Divina Commedia, abbiamo parlato in una precedente conferenza più a lungo di questo, oggi non entreremo tanto nella Commedia, però quella è come una mappa di questo ritrovarsi che è un fenomeno sconvolgente, Dante si perde completamente in questo processo e che poi per essere integrato, perché si svolga nel tempo lo spazio dell'individuo, l'integrazione di questo risveglio alla coscienza consapevole di se stessa, a vedere che non sei quella personalità e basta che credevi di essere, che sei in uno stallo di coscienza più ampio, questo mette in crisi completamente la posizione locale e c'è necessità di un processo di disidentificazione graduale a tutti i livelli, di purificazione del mezzo, cioè della coscienza individuale, della materia e poi anche la sperimentazione di stati più espansi, eccetera, anche essi vengono poi nella Divina Commedia trascesi in finale per tornare al punto di partenza da dove non ci siamo mai mossi in fondo, mi ritrovai perché già c'ero. Quindi dicevo, questi fenomeni facendo una diagnosi sono abbastanza riconoscibili perché sono della serie diciamo più psicosomatica, quindi delle condizioni che vi ho detto e vi descriverò adesso qualche caso, e di tipo più psichico come la paura, il disorientamento, eccetera, e sono diciamo una sindrome, un insieme di sintomi e di segni che si possono facilmente rintracciare. Quindi stiamo partendo da di che cosa si tratta, li vogliamo riconoscere, quello che non riesce a fare il medico di famiglia poi ti dà invece l'antiasmatico e ti dice che vai a farti detto cardiogramma. Facciamo qualche piccolo esempio. I casi di quest'ultima settimana all'ambulatorio a Terni, non dico i nomi chiaramente, dico le cose in modo un po' generico, no? Viene una signora sui 60 anni con un problema di fibrillazione, il suo cuore cioè periodicamente e soprattutto quando è agitata entra in fibrillazione, d'altra parte quando entra in fibrillazione neanche è agitata, è un circolo vizioso. Questa fibrillazione è uno stato di contrazione diciamo asincrona, non più efficace per mandare il sangue dall'atrio al ventricolo, è una fibrillazione atriale, non è pericolosa per la vita, anche se potrebbe dar luogo dei trombi a delle altre complicanze, quindi gli hanno dato per esempio degli anticoagulanti. Questa persona che avrà una sessantina d'anni dovrà prendere questi anticoagulanti forse a vita e questi farmaci comunque hanno anche dei prezzi da pagare perché prende un anticoagulante e se poi tu hai una ferita per esempio anche interna essendoci l'anticoagulante può diventare una situazione seria, cosa che invece nell'organismo sano non accadrebbe. Questa fibrillazione da alcuni mesi è seguita al fatto che c'è stata precedentemente tutta una storia. Quello che io trovo analizzando i casi che arrivano da me è che c'è sempre una storia che comincia spesso fin da piccoli, per esempio questa signora si ricorda che aveva la fobia dei topi, a 9 anni aveva fatto un sogno che entrava nella sua casa un grande topo, ma non aveva proprio la forma di un topo, ma lei sapeva che era un topo e quindi lei in quel periodo stava spesso sulle sedie o sugli sgabelli con le gambe rannicchiate perché stai così? Così sto più comoda, perché c'era questa paura del topo. Poi nell'adolescenza il papà aveva un fratello che era un paziente psichiatrico, esce dalla clinica dove lo mettiamo e la porta a casa a questo zio che gli voleva anche molto bene, però aveva le voci, parlava da solo e comunque era in uno stato di coscienza che una bimba era come una spugna, sentiva questi stati diversi e poi è morto giovane questo zio per una malattia trombotica, tra l'altro guarda caso non l'avevo notato, c'è una familiarità su un problema di coagulazione e lei stava male per questo zio, era sempre ansiosa in quel periodo. Dopodiché all'università periodi di insonnia e di ansia, dovete interrompere per un anno gli studi, questa è una donna intelligente che poi dopo si è laureata, sui 23 anni aveva questi sintomi ansiosi intensi, vedete come c'è tutta una storia prima? Poi morì il padre e quel periodo sintomi di questa energia che ne parlai la volta scorsa, ora lo ripeto, questi sintomi energetici che sono il primo piano negli attacchi di panico, derivano un movimento che nello yoga si chiama attivazione della Kundalini, che è un'energia che mantiene le condizioni di vita del corpo in stato di normalità, quando dorme, ma è la coscienza che dorme, è la bella addormentata nel bosco, in forma come di un serpente arrotolato tre volte e mezzo alla base della colonna vertebrale astrale e questo movimento energetico si attiva al momento della morte fisica, questa energia lascia il corpo e torna nel cosmo, attraversando tutta una serie di centraline energetiche, di centri di coscienza che loro chiamano i chakra e che l'astrologia connette con i pianeti, insomma è una circolazione interna dell'energia che al momento della morte si spegne e questa energia si libera, ma in occasione eventualmente di una morte da vivi, per questo ho chiamato la conferenza Morire da Vivi, è un senso di morte in uno stato mentale, è come se questa energia ricevesse il segnale di svegliati, qui è finita, bisogna muoversi e quindi la persona passa una sorta di morte da vivo, perché questo è un fenomeno energetico molto intenso ed è scritto come un serpente che si alza, il serpente sappiamo è velenoso e quindi diciamo è una forma come di morte che viene percepita inoltre, il serpente cambia la pelle e quindi diciamo è una forma di metamorfosi e il serpente anche che vola è anche un drago alato e c'è anche il fuoco e si chiama come il fuoco questa cosa che si muove, spesso è sentito anche come un bruciore che sale lungo la colonna, quindi dicevo quando passa per queste centraline e questo aspetto più fisico della Kundalini, uno psichiatra americano Sannella ha scritto un libro che si chiama la Fisio Kundalini, dà tutte manifestazioni di carattere diciamo psicosomatica, è un altro modo anche di vedere la psicosomatica questa, anche perché questa energia non è soltanto che passa in questi canali laterali e centrali, i due diciamo dello yoga descritti, le pingala nell'astrologia sono la testa e la coda del drago, ma anche potrebbe diffondersi nei canali d'agopuntura, insomma tutta la parte energetica è diciamo spesso non equilibrata e quindi può manifestare dei sintomi in un apparato o in un altro, quindi dicevo questa signora venne con un disturbo che in quel tempo della morte del padre, sempre la morte di qualcun altro in questo caso, ma spesso le figlie sono molto legate al padre, aveva un peso sul petto come se qualcuno mi premesse sul petto e avevo una paura di infarto e poi dopo ci fu, molto dopo questa storia della fibrillazione, quindi vedete che ci sono dei segnali che queste paure di morire e poi allora fa tutti gli esami ma a parte un po' di fibrillazione non c'è niente, sono connessi a una paura di morte, a una grande attività energetica che ha una lunga storia e che non è adeguatamente diagnosticata e trattata, altro caso, ho crisi di pianto in continuazione, il sonno malissimo, io seguo poi una scaretta e gli dico ma non c'hai avuto anche questo? Come dormi? Malissimo, la notte è un dramma, stanotte forse due ore, tutti sonnellini, poi mi sveglio da tre anni circa, da quando sono stato operato alla schiena mi hanno dato il cortisone, il cortisone, la morfina, spesso queste cose attivano, ora arriveremo alle cause, no? E quindi senso di mancanza d'aria, dei posti chiusi, anche sui chakra superiori, vertigini, acufeni, tremarella, lacrimazione degli occhi, mal di schiena e soprattutto l'epressione, insonnia, crisi di pianto. Questo è un periodo di menopausa per questa signora e spesso con la menopausa, con gli aborti, dopo parto, le cosiddette depressioni postpartum, sono delle forme appunto di attivazione, soprattutto se ci sono stati anche aborti prima o dopo, è facile che, visto che le ghiandole endocrine sono così connesse con queste centraline energetiche, si attivino questi cicli diciamo di paura, di movimento eccetera. Altro ragazzo, poi finisco perché non è che dobbiamo fare tutto l'ambulatorio, però per esempio questo è un ragazzo che aveva un caro amico, ma veramente un amico fraterno, dieci anni fa ha avuto un incidente stradale, tra l'altro non so se dovevano partire insieme e poi è partito solo quest'amico il quale ha avuto l'incidente, quindi c'era anche la complicanza che poteva accadere anche a lui, insomma c'era una grande identificazione con quest'amico. Da lì in poi lui non è stato più lo stesso. Non mi sento completo, ho continui attacchi di panico, mi sento soffocare, ho il cuore che batte, la notte dormo malissimo, ho visto uno psichiatra che mi ha detto che ho l'inconscio depressivo, ho l'inconscio depressivo, ma è fatta psicoterapia, dico ma un'ora di psicoterapia non ti è mai venuta in me? No, no, non sono interessato, però sono curioso, perché poi mentre questo dialogo si sviluppa, gli ho dato una terapia equilibratrice, è stato un po' meglio, si sviluppa però un pochettino ubriaco e ha pensato che era meglio che non la prendeva, più di tanto e ne ha preso una parte soltanto. Si è spesso questo problema del controllo non solo sui sintomi, ma anche sul dottore e sulla terapia, perché uno ha paura che qualsiasi cosa fa lo possa squilibrare ancora maggiormente. Quest'altro è l'ultimo, è un incidente di moto, 2011, bruttissimo, 5 operazioni, coma, farmacologica, un altro di questi modi di andare vicino alla morte e dopo questo è rimasto proprio sciroccato, non funziona più, non esce di casa, si fa un sacco di discorsi, paura, tremore, la mano non è ferma, triste, depresso, non può portare la macchina, dorme poco, prende le cure incostantemente, ha pensieri brutti nella testa, non sta mai tanto tranquillo, non trovo una ragazza, ma non è che la cerca, sta a casa, le cose non vanno come devono andare, c'è un dolore alla mano, c'è un fortissimo dolore alla mano, c'è paura di questa mano, ma dico ce l'hai adesso il dolore alla mano? No, adesso non ce l'ho il dolore alla mano, però lui vive nel dramma che sta male perché ha il dolore alla mano, qualche volta ce l'avrà, ha avuto l'incidente, effettivamente non gliel'hanno rimesso a posto bene, però si fissa sulle cose, quindi qui c'è un aspetto anche ossessivo insieme a quello fobico, esce poco, è piuttosto perso e si sente come danneggiato, che nulla non è più stato come prima, quindi è inquieto, è scontento, è una specie di stato cronicizzato di deficit dopo quello che è successo. Io ho scritto un libro che si chiama Morire da Vivi, in cui portavo altri esempi, ma vi voglio leggere soltanto un paio di sogni di altri casi e poi passiamo a oltre. Quando ho un attacco di panico sento nella testa mille pensieri, come uno sciame di vespe. Questo è un signore però che era anche consapevole di tutto questo che gli succedeva. Dopo il nostro incontro e anche dalle prime volte, provo invece un rilassamento particolare in sedute e la testa come se fosse stata aperta, come se ci fosse un imbuto o un cono. Ero rilassato ma cosciente, ma in maniera distaccata, non come quando sono preso dalle cose, era come se il corpo fosse un po' separato e avessi messo tutti i pensieri davanti sulla fronte, la testa era diventata come una stanza molto grande, al centro c'ero io, era aumentato lo spazio. Lui stava guidando e aveva questa sensazione qua. Poi dopo la seduta è passata, ma il giorno dopo nel dormiveglia sul letto gli è tornata questa sensazione, aveva quasi appreso sonno, il corpo si era addormentato ma lui era sveglio e seguiva le cose che accadevano, ma non prestava attenzione tanto a quello che c'era intorno quanto a questo stato strano di essere sveglio nel sonno. E poi chiedeva alla moglie, ma io dormivo o non dormivo? E dice no, dormivi, russavi. Ci sono come delle parole chiavi che attivano questo mio stato, come per esempio quando abbiamo parlato in seduta di una cosa lui faceva un lavoro con le ceramiche e si era parlato di questo. Un giorno, mentre invece era sveglio, al lavoro, stava facendo questi pezzi di ceramica e gli veniva in mente una frase della seduta, quindi questa cosa che la frase ci faceva da Trigger e si era trasformata, io gli ho detto di parlare di meno e di ascoltare un po' di più, poi parleremo meglio dell'ascolto. E lui quindi aveva messo in pratica questo e questo si era trasformato in non parlare, in un ascoltare aritmicamente il lavoro ciclico che faceva e sentiva come se una spinta lo portasse avanti, come quando si ingrandisce lo schermo del computer. E poi si è sentito come ritrasportare nella stanza dove eravamo a parlare il giorno prima, solo che lui galleggiava come nella stanza e io, il dottore, stavo parlando e a un certo punto non capiva più che cosa stava dicendo, il dottore parlava ma non si capiva il senso di queste parole. E gli stavo dicendo comunque di ascoltare, di ascoltare. Allora lui si trova in un buio, in un buio assoluto, però ci stava bene, una sensazione proprio strana, non c'era nulla ma stava bene. E poi si è come risvegliata. Per dire che questa sensazione poteva essere benissimo come un attacco di panico, ma invece era diventata un'esperienza che lui stava esplorando. Si era perso, non sapeva più dove era il tempo e il corpo, però lui era curioso di questa cosa qui. Una paziente fece questo sogno. Avevo nel sogno un inizio di attacco di panico. Mi interessa questa parte clinica? Se no l'accorcio. Perché voi è come se stesse un po' nello studio dello psichiatra e vi raccontano queste cose. Ci sono gli attacchi di panico, ma ci sono tanti modi di avere gli attacchi di panico. Questa ce l'aveva nel sogno l'attacco di panico. Sempre di più. E c'era mia sorella di fronte a me. Poi l'attacco si estendeva, sentivo un formicolio, questo è un altro dei sintomi formicolio, una mancanza d'aria, un senso di soffocamento, un tremolio interno, sintomi che ben conosco. Però, ne avevamo parlato in terapia, non mi agitavo. Allora dicevo a mia sorella, così come parlo ora tranquilla. Ecco, sto avendo un attacco di panico, mi sta iniziando un attacco. E lei diceva, ma come fai a dirmelo così con calma? Mentre prima, qualche tempo prima, quando ce l'avevi eri agitatissima. Io non le dicevo nulla, ma mettevo le mani sui fianchi e poi aprendole verso di lei, gliel'ho trasmesso. Lei terrorizzata dice, no, toglimelo! E io me lo sono ripreso. Lei diceva, non sono ancora pronta come te per riceverlo. Avete un po' capito la situazione clinica. Molto spesso questi attacchi di panico sono presenti in altre situazioni, forme bipolari che sono francamente di eccitamento, sono cominciate con gli attacchi di panico, forme schizofreniche che poi diventano derive sociali, cominciate con gli attacchi di panico. Attacchi di panico anche perché uno si è preso l'anfetamina, si è preso troppe canne, si è preso paura, ha perso l'orientamento, ma poi dopo rientra benissimo. Gente che invece con una canna ha avuto un primo attacco di panico che è durato 3 ore e poi ci sono avuti 8 anni per ritornare alla vita normale, raccontava una ragazza cinese in un video su Youtube. Quando ho fumato la mia prima canna 8 anni fa sono morta, così comincia il video. Era stata lontano dagli ambienti sociali di quegli anni, quella era la prima volta che tornava in una specie di cena e insieme ad altre persone raccontava questa sua esperienza. Ci sono attacchi di panico che non sono veri attacchi di panico, per esempio i pazienti ossessivo compulsivi non hanno proprio l'attacco di panico dopo magari una prima volta che ce l'hanno avuto, hanno paura di avere l'attacco di panico, c'è questa paura della paura e quindi è come la storia di Pierino e il lupo, e se viene il lupo? Il lupo non è che ci sta e questo Pierino terrorizza tutto il paese, tutto il paese sotto scacco matto perché hanno paura che possa venire il lupo e a meno che tu non prendi Pierino, lo imbavagli, lo leghi e lo incapretti e lo butti di sotto dagli spalti, e questa sarebbe la soluzione migliore, stai lì con questa storia che c'è paura della paura e quindi lui ti dice io ho gli attacchi di panico adesso, dico ma non lo sento perché io lo sento come l'energia sua se si muove o no, non si sta muovendo niente, non c'è l'attacco di panico, che dici? No, dice è vero, ora non ce l'ho, però spesso ce l'ho, ma spesso non è un concetto, c'è un concetto, non è una realtà, è un presente virtuale come il futuro e il passato, non è che esistono, sei fuori di testa, è la testa che ci porta fuori, che non ci aiuta. Quindi questa era un po' una presentazione di alcuni sintomi frequenti degli attacchi di panico. Succede che il ragazzo, il giovane uomo, spesso anche precedentemente adattato, intelligente, non per forza non squilibrato, va dal dottore e il dottore gli dice fai tutti gli esami e quindi comincia questa storia di qualche mese di esami inutili, intanto quelli di attacchi di panico gli continuano e poi spesso viene medicato con o ansiolitici, ma più spesso con antidepressivi. Gli antidepressivi sono dei farmaci che io non amo molto, raramente ho visto anche che fanno bene, ma di solito o non fanno un granché, il paziente continua a avere gli stessi sintomi o anche aggravano i sintomi, perché in fondo sono nati, anche questi più nuovi lo fanno un pochetto, sono più equilibrati, ma soprattutto i primi antidepressivi spingevano l'energia delle persone che era già in quel momento eccitata. C'era un momento appunto, non comprendendo la genesi di questa problematica, il tentativo di abbattere la crisi, di uscire da quello stato negativo che il paziente chiamava depressione, ma che in realtà era un stato di intensa angoscia, di intensa, era un stato eccitativo e spesso peggioravano, addirittura un mio collega, psicoanalista e psichiatra, molti anni fa si suicidò, perché aveva passato un periodo depressivo, non venne compreso e riconosciuto nemmeno da lui e nemmeno dai colleghi che lo trattavano, gli diedero questi antidepressivi di prima generazione, mi sembra tipo l'anafranil, in dosaggi alti, 150 mg, e lui peggiorò rapidamente e un giorno si buttò dalla finestra. Quindi questa storia della terapia non è molto risolutiva, la diagnosi non è corretta, viene fatta tardi e viene attribuita a cose fisiche oppure allo stress a causa esterna e non viene riconosciuta la genesi endogena energetica interna, può accadere anche se non succede niente e può accadere se succede qualche cosa, ma in una persona che poi non deve sviluppare gli attacchi di panico, quelle stesse condizioni non determinano necessariamente degli attacchi di panico e viene trattata in genere in maniera solo farmacologica o con terapie di tipo cognitivo comportamentali che ti aiutano magari ad affrontare certi sintomi, a gestirli e sono un po' una manipolazione secondo me anche della situazione, non comprendendo neanche il potenziale invece evolutivo, vengono considerati come se si potenziassero le capacità della mente di mentire, per dire, hai paura dei draghi? Immagina ti dice la PNL un drago un po' piccolino, piccolino piccolino, no rosso, un grigetto, non proprio arrabbiato, tranquillo, lo metti in tasca, vedi hai adesso un miglior rapporto con il drago, ma questa è la storia di Pierino, voglio vedere se ti incontri il drago davvero, se ti ricordi che lo devi mettere in tasca e non credo che lui si fa mettere in tasca. Quindi quali sono le cause che spesso determinano questo attivarsi dell'energia? In genere sono quando si va vicino alla morte, dicevamo, quindi possono essere come abbiamo visto incidenti stradali, morte di un figlio, morte di un genitore, anche a un'età da grandi, questa signora aveva avuto 50 anni quando è morta la madre, però bisogna vedere che tipo di rapporto, magari figlia unica che viveva solo con la madre, o comunque anche se ha sviluppato magari una sua famiglia, ha riprodotto nella sua famiglia quella dinamica in cui c'era comunque quell'atteggiamento fusionale, purché non si incontri il vuoto, purché non si incontri la morte, purché non ci si perda, quindi spesso le famiglie sono sì anche piene d'amore, ma sono spesso anche piene di meccanismi nevrotici per cui dobbiamo stare insieme così non ci sentiamo soli, in questo senso questa parte nevrotica, non dico che tutto sia lì, però questa parte è come se i meccanismi di difesa dell'uno colludono con quelli dell'altro, si sposa uno con una che ha paura di viaggiare perché lui ha paura di viaggiare, noi non viaggiamo perché a noi non ci piace, ma è un'associazione a delinquere, non è veramente uno che sta utilizzando l'altro per sostenersi, per come dice Kat Stevens, cerco una donna che mi faccia fare del mio meglio, quindi ti aiuta a fare del tuo peggio, situazioni appunto di farmaci, situazioni di malattie fisiche, meditazione in quantità eccessiva o errata, ci sono delle tecniche anche di attivazione della Kundalini per esempio come il Kundalini Yoga che sono gestiti da un maestro veramente che sappia che cosa sia, veramente, non abbia solo sentito parlare del fuoco, una volta uno mi dice ma tu non lo conosci il fuoco? Beh, dico proprio non lo conosco, no, però dice, io la prima volta ho avuto una paura terribile, la seconda volta sono quasi impazzito, la terza cosa, la terza volta non te la racconto, quindi può essere molto intenso, no? Io sono psicologo anche affermato e che però aveva conosciuto, ecco, molto spesso invece non si conosce veramente per esperienza e poi le persone non sono preparate, gli attacchi di panico sono dei momenti di apertura e di attivazione in persone impreparate, una persona preparata potrebbe avere dei movimenti molto più composti, perché tanto più c'è resistenza e tanto più c'è esuberanza dei sintomi, come se un fiume incontra dei giunchi in mezzo al fiume e fa molto rumore, se non ci sono molti giunchi o se si piegano dolcemente non c'è tutto questo grande parlare di questo sintomo, quindi dicevo, meditazione magari in maniera errata, non ben guidata, in persone non preparate e delle volte anche senza nessuna ragione, quel mi ritrovai di Dante potrebbe non essere dovuto a qualche cosa, forse anche soltanto a un eccesso d'amore per la verità e per trascendere la condizione di limite e di sonno, in cui in fondo sappiamo tutti di trovarci, quindi diciamo la grazia, d'altronde quando Beatrice scende per salvare Dante, viene invitata a farlo da Lucia perché dice ma non vedi colui che t'amò tanto che uscì per te dalla volgare schiera, non odi tu la pieta del suo pianto, quindi è perché lui ama tanto che viene anche tanto amato, però dire a un paziente con attacco di panico che Dio gli vuole bene, insomma in genere non funziona molto e semplicemente il paziente cambia il psichiatra, alcuni anche meglio così perché non tutti vanno bene per tutti, magari quel giorno ho invece la luna di traverso, anche io non sono fatto di acciaio inossidabile e quindi ci sono anche delle volte che non funziona bene, non sto dicendo che questo è un metodo che va bene sempre. Quindi abbiamo visto un po' come sono fatti gli attacchi di panico, che tipo di trattamento incontrano di solito, il loro decorso in genere è di cronicizzarsi e di evolvere o in quadri più importanti perché il processo appunto evolve oppure di stabilizzarsi, uno può avere danni, attacchi di panico, non va più in ascensore, non te lo dicono di solito, dico ma lei che sintomi già? Dice ma niente mi sento un po' triste, non ho molti incontri sociali, mi sembra la mia vita un pochino inutile, poi vai a scavare un po' di più e non esce perché ha paura di uscire oppure non va in certi posti, oppure è il marito apparentemente che ha dei problemi ma questo è un alibi perché così io posso non essere libera, quindi si cronicizzano in situazioni, dico ma lei adesso c'è il tacchio di panico, prima non l'aveva mai avuto, ma non l'aveva mai avuto, poi l'ascensore, dice sì quello fin da piccola e non prendo l'ascensore, c'è stata una prima volta magari a vent'anni che ha avuto delle paure, poi sono rientrate presto, però da quella volta pur funzionando per tutto il resto sono rimasti questi piccoli segnaposti che indicano. Ci sono un sacco di teorie ordinarie, queste sono un po' eterodosse, non sono quelle accolte nella medicina ufficiale, parlare di yoga e parlare di kundalini, quelle ufficiali sono che o è un processo endogeno, ma all'endogeno ci rientriamo pure con il discorso dello yoga e dell'astrologia, cioè c'è qualcosa che nel sistema da dentro e non per motivi esterni si può attivare come un orologio interno a un certo punto e quindi sia che sia morto il papà, sia che non sia morto il papà, questo è un processo endogeno che si sarebbe comunque verificato, quello è soltanto una con causa, non è la causa determinante e quindi le teorie diciamo psichiatiche a stampo biologico c'è qualcosa nella tua famiglia, nel tuo DNA, nella tua predisposizione, diciamo una diatesi, una predisposizione. La teoria più di orientamento psicologico invece questa predisposizione la riporta alle esperienze, soprattutto della prima infanzia, ma alcuni anche dell'esperienza proprio intorno al momento della nascita, c'è per esempio questo psichiatra transpersonale che si chiama Groff, che nella sua psicologia del futuro ha dato grande importanza alle esperienze che accadono nel periodo perinatale e quindi quando il bambino comincia a essere spinto nel canale, che tipo di situazione si trova, magari è messo storto, la pressione è forte ma la cervice non è aperta, oppure mentre è nel canale stesso, le esperienze che fa pensare ai bambini, per esempio, estrati col forcipe, insomma c'è tutta una serie di esperienze che secondo me rimangono in grammate nel tuo inconscio e che poi determineranno anche come tu ti comporterai di fronte a una situazione di stress per esempio, con allarme, con fuga, sentendoti disperato, eccetera. Quindi le teorie psicologiche soprattutto legate alla prima infanzia da Freud in poi sono che comunque sei così perché ti ci hanno fatto diventare e può essere, se ho usato male questo sistema, anche un modo per deresponsabilizzarsi, insomma sarà colpa della mamma, sarà colpa delle esperienze traumatiche che ho avuto, per esempio violenze fisiche o sessuali, eccetera, insomma non è che questo non ha nessuna importanza, però viene data la responsabilità a questo nonostante che molta gente che ha avuto queste esperienze non svilupperà gli attacchi di panico e gente che li sviluppa invece non ha avuto esperienze così traumatiche nella prima infanzia, alcune famiglie sono veramente disfunzionali, chiaramente lì è più facile che si possa manifestare, però queste teorie sia biologiche a stampo medico, il paradigma medico è che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che è sbagliato in te, è patologico e dobbiamo rimetterlo a posto, questo non funziona in psichiatria perché non c'è qualcosa di rotto e non c'è da tornare come prima, c'è da diventare come dopo e le esperienze psicologiche è come la psiche già traduce qualche cosa a valle diciamo del processo in sé, quindi una volta che questa energia si muove è chiaro che tu puoi nella mente, puoi fantasticare, puoi dare veste a situazioni di conflitto, di situazioni di mostri fra virgolette, non per forza come immagine diciamo, ma situazioni di terrore che ti fai una storia insomma e che magari ci sarà stata anche intorno a te, non sarà stato tutto perfetto, ci sarà stato qualcosa per cui tu puoi trovare una ragione, ma questo che si vede di solito in clinica, nella clinica, è che la mente cerca delle ragioni fuori da sé, quindi sì sto così ansiosa ma bisogna dire che in questo periodo ho lavorato tanto e poi mio marito non ha lasciato, si fa una storia ma poteva succedere anche senza che il marito la lasciava e succede spesso questo, quindi io che sento tanti casi, non le prendo subito per buone anche se le ascolto queste ragioni diciamo, insomma non c'è secondo me una vera teoria adeguata per gli attacchi di panico nella medicina e nella psicologia ufficiale, così che questi pazienti vanno anche in psicoterapia per anni, parlano di tutte queste situazioni psicogenetiche, cioè come sono iniziate le situazioni, com'è che hai cominciato a chiuderti, com'è che hai cominciato a sentire paura, ma forse perché sei così timido, perché hai problemi con gli altri, le ragazze eccetera, dopodiché ce la siamo spiegata, la terapia deve pure finire a un certo punto, ma quello ancora in futuro avrà altri attacchi di panico. Quindi è necessario vedere le cose anche da un altro punto di vista, sia per motivi clinici che così non funziona tanto, sia perché l'intero campo approccio alla psichiatria, non solo l'attacco di panico deve ormai cambiare, ed accogliere la comprensione che forse abbiamo da considerare anche qualcosa di più di questo corpo fisico e di questa storia biografica, diciamo, no? dobbiamo considerare che noi siamo qualcosa di più di un corpo e di una storia, di una persona, ossia dobbiamo avvicinarci a questi problemi con un approccio transpersonale, il che non vuol dire che non teniamo conto della persona, ma è da dove tu guardi la persona, se la guardi da dentro e tutto il mondo egocentricamente, diciamo, è riferito alla persona, quindi accade a te, oppure se tu coscienza stai identificato con una persona, stai vivendo attraverso questa persona, ma questa persona ha delle esperienze che accadono in te coscienza, non solo a te personaggio. Faccio un esempio, una volta ho sognato che ero un uccello che volava, un uccello, ero molto contento, ho già fatto altre volte questo esempio, e poi mi sveglio e non sono un uccello, allora sono o non sono un uccello? Se lo guardo dal punto di vista del mio credere di essere un uccello durante il sogno, che è uno stato temporaneo, poi mi sveglio, è molto importante quello che mi è successo, se ci sarà qualcuno che mi può sparare, che cosa mi era successo da piccolo, guardo da dentro l'uccello, questa cosa sta accadendo a me uccello, ma sta accadendo dentro di me sognatore, in realtà non c'è nient'altro che il sognatore, perché l'uccello non è qualcosa di diverso da me, sono io in forma di uccello, di rami d'albero, di mare, tutto questo mondo da me è creato, da me è concepito, viene poi da me percepito, quindi io percepisco quello che concepisco. questo potrebbe essere valido anche in questo momento, noi qui siamo convinti di essere dei personaggi, stiamo chi? Percependo qualcosa che comunque è stato concepito, stamattina non c'era quando dormivamo tutto questo mondo, a un certo punto ci siamo svegliati, si è aperto tempo e spazio i personaggi ed eccoci qua che interagiamo, questo è uno stato temporaneo anch'esso, così come nel sogno ci possiamo rendere conto, come quel signore che stai sognando, sento, nella veglia ti puoi rendere conto che c'è qualcosa che sta percependo tutto questo, questo è il discorso del mi ritrovai, del risveglio, cioè che la coscienza è consapevole di senso, che si rende conto, altrimenti tu vivi comunque ma non ti rendi conto, è come quando dormi che tutto succede ma tu non ne sai in fondo niente, e quando risvegli succede lo stesso ma però lo sai, non è che cambia molto, non è che dopo quando tu hai questo risveglio e dopo invece hai la luce di mercurio e non ti toccano più i tram che passano, è meglio che ti scansi lo stesso. Quindi da questo approccio gli attacchi di panico sono un fenomeno di risveglio e di ritorno della coscienza in uno stato inizialmente più indifferenziato e per il personaggio che ancora in parte sei, incomprensibile e inaccettabile, ma in realtà è l'inizio di un processo di liberazione da quell'incantesimo che ti porterà prima o poi a seconda delle resistenze e del mezzo del cammino di nostra vita, ha una trasformazione e questo si vede seguendo i pazienti con gli attacchi di panico nel tempo, questa cronicizzazione, questo evolvere in altri quadri accade soprattutto in situazioni cliniche dove il terapista non sta guardando con questa ottica e non sta intervenendo a favore di questo, non sta favorendo la nascita di questa nuova condizione, che sempre quel dottor Sannella che dicevo prima ha paragonato come un parto di un nuovo essere, non c'è un bambino che nasce qui però c'è un distacco della placenta, non sei più quello che eri prima, non sei più quell'identità, sei staccato da quell'identità, iniziano delle contrazioni periodiche che portano avanti il processo e poi c'è la nascita, in questo caso quindi comprendere che sta nascendo un nuovo stato di coscienza, che dalla condizione del me c'è come dire un trasloco, un trasferimento all'esperienza del sé, ma dire così esperienza è come se parlassimo sempre di qualcuno che ha esperienza a livello individuale, è uno stato di coscienza diverso, quando la nostra tradizione cattolica ci parla di risorgere alla vita eterna, questa vita eterna vuol dire che non è il tempo quello ordinario, anche se nel corpo rinasceremo ognuno nel proprio corpo dice Dante, ma non è alla fine dei tempi, non è la fine cronologica dei tempi, quindi bisogna capire che noi non possiamo neanche capire i messaggi che sono stati lasciati, che ne so, che Dio è uno etrino, finché non cambiamo prospettiva, l'uno è uno, ma nella forma del molteplice in cui è diviso in se stesso è anche due, ossia i diecimila esseri, è uno e due insieme, è uno etrino, sta parlando della coscienza, della cosmogenesi, come nasce il nostro mondo ogni momento, quindi questa però richiede una nuova chiave di lettura per la Divina Commedia, per la nostra vita e per anche gli attacchi di panico, vedere le cose come uno sviluppo della coscienza, invece che come un problema perché ti è morto il genitore, ma forse se tu fai una lunga psicoterapia e te ne fai una ragione ti passa, è una grande differenza, è proprio un diverso approccio ai disturbi mentali, agli attacchi di panico e alla possibilità di intervenire come terapia. Non so come stiamo col tempo? C'è ancora un pochino di tempo? Posso dire qualcosa della terapia? Perché io tutto sommato sono contento di essere un medico, nel senso che nonostante non condivida il paradigma medico interamente, non dico che quando c'è un appendicite non sei contento di avere un reparto chirurgico adeguato per l'appendicite, sono stati fatti dei grandi passi avanti in questo senso, anche i farmaci, al di là del fatto che poi sono così sponsorizzati, abusati dalle case farmaceutiche, dal gruppo medico, ma meno male che abbiamo certi farmaci, poi magari li usiamo anche male tipo gli antibiotici, li usiamo per tutto e dopo c'è la resistenza agli antibiotici, però un uso artistico dei farmaci, cioè che tu possa in un parto usare anche in dosi moderate temporanee degli analgesici che aiutino il parto è una gran fortuna, il fatto che questi processi in quel momento in cui c'è il parto richiedono anche una forma di ricovero, di ambiente protetto, non per forza dovuta a una casta medica, però occorre una forma di mediazione, medico vuol dire ciò che media, che è punto medio fra te e la forza risanante della natura, tu sei un ponte per queste energie, quindi io sono contento di essere un medico, il simbolismo, anche il camice bianco è che occorre una certa forma di amore disinteressato, chiunque venga tu fai quello che puoi, in un certo senso come la mamma non è che dice questo figlio sì e questo figlio no perché uno è biondo e uno è bruno, c'è una predisposizione a una professione di aiuto e degli strumenti, solo che attualmente nella medicina moderna e forse nell'anima della stessa medicina, ma forse ai tempi di tipocrate no, però nella medicina moderna e nella psichiatria moderna si è sviluppato sempre di più il paradigma solo medico, che noi siamo un essere fisico senza anima, nessun medico del passato gli era mai venuto in mente una stupidaggine del genere e quindi ha perso un po' la strada la medicina moderna e la psichiatria moderna e quello che vediamo come prospettive che ci vengono per esempio dagli Stati Uniti è di una medicina sempre più telemedicina, sempre più anonima, sempre meno comprensiva dei fenomeni spirituali e animici e quindi un intervento tecnico super specialistico che molto si allontana dalla mia visione dell'intervento empatico che serve in un approccio transpersonale, quindi succede che non ci si capisce tanto anche fra specialisti, qui per esempio è raro che venga uno psichiatra tradizionale e anche gli psicologi comunque dovrebbero fare il funerale in un certo senso o almeno prendere una certa critica distanza per riabitare le conoscenze che loro hanno da un altro punto di vista e quindi anche noi specialisti dobbiamo andare incontro a una crisi di panico, a una crisi di identità, a cambiamenti energetici e state di coscienza diversi che potrebbero in parte essere favoriti se ciascuno facesse un lavoro personale anche in un'analisi approfondita che non è sufficiente ma almeno potrebbe essere propedeutica, ma molta di questo personale, molta di questa gente non fa questo lavoro su di sé, quindi è molto legato a un lavoro sull'oggetto separato da te è basato sulla separazione, del corpo dall'anima, del soggetto dall'oggetto, dell'istituzione dall'utente, è tutta un'organizzazione, ma come dice il Tao, l'organizzazione è l'inizio del disordine. Quindi non so se organizzando le cose meglio andremo meglio, dovremo più che altro capire, aprire il cuore e la mente a un nuovo tipo di terapista, a un nuovo tipo di terapia. Quindi questa terapia come io la adopero utilizzando qualche volta anche i farmaci e da medico, però quello che adopero è soprattutto l'accoglimento di questi stati di coscienza del paziente all'interno di un mio stato di coscienza stabilizzato e ampliato. Quindi non vengono risolti i problemi, ma semmai vengono risolti all'interno di questo campo. I problemi per esempio psicologici, ma io ce la faccio, dipende da chi è questo io, se tu ti metti sullo stesso piano dell'io del paziente, si sta cercando insieme di tirarsi su per i capelli da soli. Invece se tu stai intervenendo con un diverso campo di coscienza e il paziente siccome anche lui è la stessa cosa che sei tu, è portato dentro a questo, all'interno di questo c'è una risoluzione della sintomatologia. Quindi l'uso del farmaco come numero due in modo artistico. E numero uno, l'intervento di partecipazione empatica è un termine della psicologia tradizionale, quindi non dà veramente ragione di quello che è. In un certo senso se tu riesci a non essere così egocentrico, così in primo piano, se tu sparisci anche l'ego del paziente e i suoi sintomi spariscono. Non è che spariscono nel senso che i problemi non ci sono più. Ma come mi disse un paziente una volta, dopo un po' di terapia, dice il dottore, io quando sono venuto avevo un sacco di problemi, stavo proprio male, dice la ringrazio, adesso me ne vado. Dico allora va bene, adesso sono passati questi problemi. No, no, i problemi sono come prima, però chi se ne frega. Insomma possono starci anche dei problemi, no? La vita è bella anche se ci sono le cose brutte, direbbe un bambino. Quindi questa terapia è basata sul fatto di entrare in sintonia con le energie che ci sono, eventualmente anche disturbate, in questo nasce, come non c'è due senza tre, nasce un processo di trasformazione di queste energie, che è un processo alchemico durante la seduta, come la trasformazione del piombo in oro, è la coscienza che si trasforma. Si cerca anche di rendere consapevole il paziente che io non gli sto dando dei pesci, ma gli sto insegnando a pescare, cioè gli do degli strumenti perché lui possa poi a casa proseguire questo lavoro di autoconoscenza e di trasformazione. E si utilizza anche a livello cognitivo, diciamo, delle metafore, come io faccio spesso per la Divina Commedia, una favola, quello che sia, un sogno, come materiale mentale che permette di allinearsi. Non so se uno ascolta un sogno che gli propone, non so, di accettare, di andare anche incontro a qualcosa di difficile e lui si allinea a questo invece che continuare con la politica evitativa o di controllo precedentemente assunta. Quindi io gli indico, non posso sostituirmi a lui, ma posso accompagnare lui. Questo ha un effetto terapeutico che poi si diventa un metodo, questo di ascoltare di più invece che rifiutarsi di ascoltare, di entrare in contatto con questa energia femminile, con la Shakti che lo percorre, diventa un metodo che può diventare effettivamente quello che fa la differenza fra l'evoluzione in senso difensivo e cronicizzato o viceversa evolutivo e di apertura, perché altri interventi, altre persone, altre cose poi ulteriormente verranno e se hai fiducia che questo processo in corso è vivo e intelligente, probabilmente questo fa la differenza, proprio vedere le cose da un altro punto di vista. Vorrei leggere per finire solo questa frase di Herman S. de Siddhartha, poi possiamo fare domande e risposte, penso un pochettino, non è tanto tardi, dove lui parla di questo ascolto quando alla fine lui arriva dal barcarolo, forse ve lo ricorderete, molti di noi hanno letto questo libro. Lui sta attraversando alla fine, dopo tante peripezie, questo fiume con il barcarolo, che gli parla e gli dice, ad ascoltare mi ha insegnato il fiume ed anche tu imparerai da lui, lui sa tutto il fiume, tutto si può imparare da lui, vedi anche questo tu lo hai già imparato dall'acqua, che è bene discendere, tendere verso il basso e cercare il profondo. Vedi io non sono un sapiente, non so parlare, non so nemmeno pensare, sono soltanto ascoltare ed essere pio, altro non ho imparato mai, se sapessi dirtelo o insegnartelo forse sarei un sapiente, ma invece sono soltanto un barcaiolo, e il mio compito è di portare gli uomini al di là di questo fiume. Molti ne ho traghettati, migliaia, e per tutti costoro il mio fiume non è stato altro che un ostacolo sul loro cammino, ma per alcuni, pochi, per il quale il fiume aveva cessato di essere un ostacolo, ne hanno sentito la voce, e il fiume è diventato loro sacro, come per me. Hai appreso anche tu quel segreto del fiume, che il tempo non esiste? Il fiume si trova dovunque, in ogni istante, alle sorgenti ed alla foce, alla cascata, al traghetto, alle rapide, nel mare, in montagna, dovunque, in ogni istante, e che per lui non vi è che presente, neanche l'ombra del passato, neanche l'ombra dell'avvenire. Non è vero, amico, che il fiume ha molte, moltissime voci, non ha la voce di un re, e quella di un guerrigliero, e quella di un toro, e quella di un uccello notturno, e di una partoriente, ed uno che gema, e ancora mille altre voci. Così è, tutte le voci delle creature sono nella sua. E sai, che parola dice, quando ti riesce di udire insieme le sue diecimila voci? Egli si chinò verso Siddhartha, e gli sussurrò all'orecchio, il sacro OM. Ciao, mi ha colpito una cosa, nella tua esposizione, quando hai parlato dell'adattamento, un certo punto di un adattamento. Adesso va tanto di moda, ti parlavo della scienza del comportamento, va tanto di moda, adesso va da moda, ovunque ci fanno tanti workshop, tante cose sulla resilienza, è la parola che è diventata topica. La resilienza è il massimo dell'adattamento, è il superadattamento. In questo caso, che cosa accade? Io adatto qualcosa, che comunque rimane aperto, Pers direbbe, rimangono guest alta aperte, continuamente. A questo punto, io mi sono adattato, quindi ho bloccato quel processo, di cui parlavi. Magari adattandomi, non arrivo da te, per ora. però siccome quel processo sarebbe graduale, poi con questo discorso, non potremmo trovarci di fronte a tanti, che hanno un processo dirompente, visto che c'è questo topic, su favorire la resilienza, che è un elemento base. Quindi questo è... Beh, intanto mi viene da dire che noi incontriamo anche i terapisti che ci meritiamo, e anche ogni terapista c'è i pazienti che si merita, per cui se un paziente non ha intenzione di capire delle cose, non andrà a incontrare un tipo di psicoterapia trasformativa. Cercherà una terapia di appoggio, si aggrapperà al farmaco, come altro metodo per evitare, e sarà addirittura contrario smettere i farmaci. Alcuni ho incontrato così, che da dieci anni hanno visto magari una volta solo lo psichiatra dieci anni fa, hanno sempre continuato, ogni volta che stavano male ripigliavano quel farmaco, però adesso vengono perché non ne possono più, vorrebbero smettere. Quindi, dice un detto, crolla quello che ha costruito male. Se non funziona, non funziona. Con le chiacchiere siamo a zero. Deve funzionare, no? In medicina quello che funziona è giusto. Quindi questo discorso sulla resilienza, è come dire, la vita mi sta dando un colpo, io però riesco a rialzarmi. Non c'è niente di male in questo, ma hai capito che cosa ti ha detto la vita? Sennò ti deve dare un altro colpo. Finché alla fine, insomma, a buon intenditore poche parole, a cattivo intenditore tante botte, tante parolacce, eccetera. C'è da dire anche un'altra cosa che non ho ricordato di dire prima, e cioè che questo fenomeno, quando diventa appunto più generalizzato, più collettivo, acquista un interesse diverso. Una cosa è che io nel mio studio ho un paziente che ha gli attacchi di panico, anche se sono diversi questi pazienti, insomma sono sempre comunque dei casi tra virgolette patologici, il parto non è una patologia, si può complicare, ma spesso è un fenomeno che accade ad alcune persone, non tutte sono incinte nello stesso tempo. Ma metti che invece c'è un fenomeno più collettivo, più globale, come sta accadendo negli ultimi tempi nel nostro mondo. Le cose stanno diventando più acute rapidamente, nel campo della tecnologia, della sanità, della religione, dell'economia, tutto sta andando molto velocemente verso una cuzie, come se dovessimo fare veramente un cambiamento, come la punta di una piramide, dobbiamo proprio capirla questa situazione. Ad esempio, l'ultima di queste cose è questa storia del coronavirus. Cosa succede? Che tutti hanno paura, ma la paura che il mio paziente incontra quando c'è l'attacco di panico è questa paura di morire, che adesso invece è una cosa un po' collettiva. Allora la gente non esce, non va al supermercato, si mette le mascherine, non dico che sia sbagliato, proteggesi un pochetto, ma forse non ci potremo proteggere. In ogni caso dovremo poi comunque un giorno morire. E per adesso che siamo ancora vivi, la morte è un fatto mentale. Quindi quando questa cosa diventa più così collettiva, a maggior ragione è importante comprendere che la strada è quell'altra, è quella della morte rinascita, della trasformazione su un altro piano di coscienza. Il che non toglie, che forse faremmo bene a non fare questi gauri di virus come sono fatti, a gestire la situazione economica e sanitaria così, eccetera, va bene? Quindi questo discorso del collettivo ci tengo a dirlo, perché poi se non era il virus erano comunque, che ne so, le situazioni belliche dei grandi blocchi geopolitici, oppure altre cose ancora, perché questo si gioca sulla pista dell'educazione, sulle famiglie che si disgregano, insomma è tutto un mondo che sta rapidamente trasformandosi. Allora io adotterei la tecnica di Dalla, che dice l'anno vecchio è finito, l'anno nuovo sta arrivando, qualcosa ancora qui non va, e io sai che sto facendo? Io mi sto preparando e questa è la novità. Allora volevo fare una domanda, parlando del problema, quello che emergeva è che il meccanismo di difesa più utilizzato è l'evitamento, negli attacchi di panico, e visto che non possiamo evitare la consapevolezza che stiamo evitando, cadiamo in un circolo vizioso che amplifica il sintomo. Mi ha colpito l'approccio appunto di accoglienza di uno stato di coscienza dentro uno stato di coscienza stabilizzato, e potremmo dire che questo significa portare la persona ad affrontare e quanto conta in questa dimensione, la dimensione del radicamento, del respiro e della presenza corporea, cioè di sentire di essere qui adesso. Sì, grazie per la domanda. È importante, si entra anche un po' nel tema della tecnica, di un tipo di lavoro che io faccio di psicoterapia, nel senso che psicoterapia è onorare gli dèi, e se gli dèi sono anche i chakra, è chiaro che tu devi conoscere e aver armonizzato questa energia del dèi, cioè l'energia deve circolare armonicamente già all'interno, questo è un aiuto, un volano che aiuta a fare circolare l'energia del paziente, perché poi si diventa una cosa sola, o non si è mai stati due cose distinte in realtà. Quindi l'ancoraggio al respiro potrebbe essere utile all'inizio come tecnica, diciamo, per comprendere questo. Intanto il respiro, per esempio anche il respiro di fuoco, nello yoga, nel Kapalabhati, ma anche le tecniche che consiglia Dante, non so se avete presente, come all'inizio del paradiso, Dante consiglia che il Dio Apollo, il Sole, entri nel suo petto e respiri, in modo da creare questa nuova nascita. Ora non entro nel dettaglio, perché ne abbiamo forse già parlato l'altra volta, entra nel petto mio, espira tue, siccome quando Marsi attraesti della vagina delle membra sue, come se uno viene sguainato dal corpo, dalla pelle, è una nascita. Quindi può aiutare la nascita di qualcuno, se sai un po' anche tu, un po' come è successo anche a te, in fondo si sta solo condividendo. Cioè se io dico questa parete è azzurra, non sto insegnando a voi che la parete è azzurra, voi dite, ah sì è azzurra, ma perché state condividendo? È proprio un altro approccio, non è che io mi metto lì e insegno qualcosa a qualcun altro, prima quando dicevo insegno a pescare era un po' sbagliato come termine. Quindi questo discorso delle sensazioni su respiro è una fase intermedia che io adopero spesso per esempio nell'ascolto dei chakra, perché si sentono queste sensazioni, la gente conosce questi centri nella pratica comune, diciamo per esempio mi si è spezzato il cuore, mettiti una mano sulla coscienza, parliamo col cuore in mano, parliamo cuore a cuore, usiamo anche un movimento, non mi va nessuno giù, questa cosa proprio io la rigetto, oppure il suo filosofo sta con la mano così, e quindi noi conosciamo in fondo queste energie, ho avuto una paura che mi è venuta una strizza di culo, proprio sappiamo che ci sono delle sensazioni corporee sottili che non hanno a che fare con gli organi fisici, quindi questo è un modo come respiro di concentrarsi, ci sono in fondo mi sembra, si potrebbe dire due tipi principali di meditazione, una è concentrativa e una invece è di apertura del campo, forse sono anche il Patehara e il Dhyana, nell'Ashtanga Yoga, e questa storia quindi di avere questo punto di concentrazione, ti permette poi di passare dalla figura sfondo, ad ascoltare ciò che sta ascoltando, non tanto ad ascoltare l'oggetto, chi cerca trova vuol dire che devi trovare, sono tre parole, chi cerca, non che tu cerchi qualcosa, non hai trovato un cercatore, e quindi che cerchi, non puoi trovare niente, se non hai capito chi sta cercando, e questa è sempre questa storia della chiave interpretativa, è personale quella che tu sei colui che cerca, è transpersonale che invece devi essere trovato, e quindi una tecnica può servire come ponte intermedio, questa è la mia risposta, e la proverei, penso che la gente farebbe bene anche a fare meditazione, ma non a fissarsi sulla meditazione come punto terminale, perché poi si rischia di creare un ego spirituale che è ancora più difficile da smantellare dell'ego materiale, perché tu ormai sei tutto, c'è anche il Buddha che ti ha detto che hai ragione, che gli dici uno. Io direi questo, che va bene di utilizzare delle tecniche, e per esempio si possono riutilizzare allora anche le tecniche della psicologia, come non solo l'immaginazione attiva di Jung, la creatività in varie forme, la danza, le costellazioni familiari, tutto dipende da che punto di vista le consideri, perché anche le costellazioni familiari che sono interessanti, potrebbe essere un campo sciamanico che bisognava sapere gestire però, perché se no succedono cose che non sai bene che cosa succede, io che ho praticato un pochino questa cosa e poi ho anche lasciato, rischia di diventare un altro strumento psicologico per dare la colpa a qualcun altro, allora è mio nonno che si era stuprato da fare la cameriera, dice Ellinger che è uno schizofrenico, probabilmente c'è nell'albero genealogico qualche omicidio, siccome qui tutti fanno di tutto, ammazzano, sicuramente ci sarà qualche omicidio, e poi qualche schizofrenico, cercando si trova sempre, è come disturbi della tiroide, insomma se cerchi poi lo trovi, e quindi capito, è il punto di vista che deve essere rettificato. E' possibile che tutti questi sintomi che oggi vengono normalmente letti come una patologia, a prescindere poi dal modo in cui uno li affronti e cerchi di risolverli, magari nel mondo classico antico erano visti come dei, non so, dei segni di qualcosa, non necessariamente di brutto, ma di bello che stava arrivando, un cambiamento nel, diciamo, in colui che sperimentava questi sintomi. Quindi, cioè, è possibile che noi oggi tendiamo, non lei, perché da come si è espresso mi sembra che abbia una visione molto chiara, che io condivido, insomma, però volevo dire che la medicina ufficiale, è possibile che oggi tenda, medicina, intendo, psicologia, psichiatria, a vedere tutta una serie di sintomi, solo in senso negativo, e invece magari potrebbero essere dei sintomi che stanno annunciando un cambiamento, che bussa, diciamo, nell'interiorità di ciascuno di noi. Grazie. L'interiorità di ciascuno e anche di tutti quanti, anche gli altri, diventano sempre più collettive queste cose, sarà perché siamo anche 7 miliardi. Comunque, a proposito di come vedere e come sono stati visti questi disturbi psichiatrici nel tempo, se uno fa un po' la storia della psichiatria, c'è questa versione più bella, diciamo, che dice che solo i pazzi possono conoscere la verità, e in parte questo è vero, però è anche vero che, come dice De Gregori, ci sono quelli che vivono all'incrocio dei venti e sono bruciati vivi, e per quelli che vanno e non tornano indietro e hanno perduto l'anima e le ali, dice in questa canzone Santa Lucia, molto bella, non sempre è così una passeggiata di salute questa storia che comunque uno deve morire e rinascere, per cui vai a dire un po' a uno che sta partorendo e che magari il parto si sta anche complicando, che forse è una cosa bella quella che sta succedendo, lo potrà dire dopo, quasi tutti quelli che hanno poi attraversato il guado, dicono io non vorrei tornare come prima, sono grato a tutto quello che è successo, però questo potrebbe richiederle gli anni, è necessario come in ogni parto che ci sia un'ostetrica, che conosca il parto e possa accompagnare, un Virgilio che possa accompagnare un Dante, però si dice che poi questo viene anche ad accadere in modo spontaneo, come noi ci stiamo trovando oggi qui, evidentemente abbiamo anche una qualche sintonia che già era pregressa, prima di sentire la conferenza, e per questo è possibile comunicare, diciamo con il cuore aperto e con la mente aperta, poi si trovano anche situazioni invece che ti attaccherebbero per le stesse cose che qui invece vengono magari apprezzate, quindi dipende da che punto di vista si guarda questo fenomeno, dal punto di vista dell'ego è una catastrofe, dal punto di vista di te come risveglio è l'inizio, è una nascita, è l'inizio della guarigione e finché si sta in mezzo c'è un po' tutti e due, quindi la cosa tipica del paziente è che da una parte non è più quello di prima, è mezzo morto e quindi diciamo già mezzo rinato, ma la parte che non è mezza morta è in genere in contrasto, si trova che la persona ha dentro la testa una voce che continua a dire che va tutto male, che non è come dovrebbe essere, che mannaggia questo e mannaggia quello, poi secondo il livello evolutivo della persona, appunto dico capita in persone spesso che non sono anche preparate ad accoglierlo questo processo e quindi gli esiti del processo sono molto diversi a seconda della persona in cui si svolge. C'è un americano che si chiama Sean Blackwell che ha fatto un sito che dice sono bipolare o mi sto svegliando? Am I bipolar or waking up? Ci sono molti video molto ben fatti, purtroppo sono in inglese, dove lui racconta la sua esperienza che è stato ricoverato per tre giorni perché era andato un po' fuori di testa, ma si è reso conto che era un'emergenza spirituale e non una crisi diciamo schizofrenica, e quindi nel suo caso anche senza farmaci è andato abbastanza bene, spesso invece un po' di farmaci magari adeguatamente vanno anche dati per stabilizzare un po' il quadro e farlo tornare indietro e non farlo ritornare troppo intenso, che in suo caso non c'è stato tanto questo bisogno, però lui stesso adesso ammette che in alcuni casi certi farmaci ci vogliono, e fare i seminari di gruppo in giro per il mondo, dove aiuta la gente che appunto è diagnosticata solo come bipolare a vedere che questi aspetti energetici sono anche pronubi, sono l'inizio di una nascita, di uno stato di coscienza che richiede un travaglio, un'integrazione, ma che può essere anche una trasformazione positiva, come qualcosa che mette le ali invece che sprofonda e basta. Però su questo insomma ci sono voci discordanti, chi fa psichiatria sa che ci sono dei casi veramente molto drammatici, dove non è che con un approccio anche più aperto puoi proporre di usare soltanto questo, a certe volte occorre usare, nella medicina si dice che la chirurgia è la medicina per i demoni, l'osso devi usare la sega, poi c'è la medicina, quella clinica, della medicina interna per gli uomini e poi c'è la medicina per gli angeli che è la medicina energetica e forse gli stessi tipi di disturbi che possiamo avere, possono avere delle componenti più dense, più sottili, più evolute, meno evolute e bisognerebbe anche sapere artisticamente graduare il processo terapeutico in ogni singolo paziente, in ogni singolo momento, chi è che ce la fa? Nessuno, però se ascolti può darsi che il paziente ti dà qualche suggerimento, spesso lui è arrabbiato perché non lo ascolti, perché non lo capisci, non capisci dove si trova, di cosa ha bisogno, come un bambino che ha bisogno di una cosa e la madre non lo capisce, stiamo cercando di riaprire questa comunicazione. C'è una cosa. M'ha acceso il quanto dice il Barcarolo in un certo modo a Siddhartha, questo naturale andare verso il profondo, comportarsi da acqua, lo scendere, cioè una secondaria, proprio una naturale gravità e quanto sia in contrasto invece con un po' la cultura generale, con quello che, con il latte con cui siamo stati nutriti, che è l'efficiente produttivo, il successo, la realizzazione, quindi questo un po' arrampicarsi, ci sono parti di noi che in un certo modo naturalmente vorrebbero prendere questa via in un certo modo naturale, però certo vanno profondamente in contrasto con quello che sono un po' gli insegnamenti che mai abbiamo interiorizzato, ma abbiamo anche il bisogno di essere socialmente accettati, il bisogno di significare qualcosa che sembra che se non si seguano le linee del mondo corrente si incorre in un fallimento. Questa considerazione. Sì, grazie della domanda, effettivamente questo è quello che spesso le persone lamentano, dicono ma io anche vorrei provare a seguire questo tipo di suggerimento, ma poi intorno a me sono tutti contrari, la società, come si farebbe poi a vivere in una società? Ma dobbiamo considerare che è vero che il gruppo ci influenza e ci ha influenzato fin dalla mamma, latte, condizionamento, poi l'asilo, poi la scuola, poi i media, insomma siamo belli condizionati, ma è anche vero che tu hai incontri con il tipo di sociale che stai riflettendo, cioè tu ti fai dire le cose da quelli che la pensano in quel modo di resistenza che ancora stai sostenendo. Quando tu invece vai davvero come l'acqua, incontri acqua, entri nel mondo come amore e trovi tanta gente piena d'amore, entri nel mondo come competizione e diffidenza e trovi un sacco di gente che ti vuole fare le scarpe, no? C'è una specie di specchio nella vita. E quindi non vedrei questa separazione fra quello che potrebbe essere andare verso il fondo come l'acqua e invece qualcosa che socialmente te lo impedisce. Forse dovremmo tutti considerare che c'è da sposarsi questo sì, andare con l'acqua e tenere dentro di sé questo no, sentirlo invece che rifiutarlo, perché poi è l'ego che rifiuta l'ego e fare un po' come dice Bob Dylan che dice che questo peso che mi porto addosso è l'unica ricchezza che ho e non è buio ancora ma lo sarà tra un po'. Questa è la canzone. È bellissima, dice, girato in lungo e in largo ho visto niente di speciale, sono sceso lungo il fiume e sono arrivato al mare, in un mondo di chiacchiere e una montagna di fumo, senza cercare più niente negli occhi di nessuno. E questo peso che mi porto addosso è l'unica ricchezza che ho e non è buio ancora ma lo sarà tra un po'. Vedi questo è quello che diceva questo signore prima, la canzone comincia con viene la sera e tutto il giorno che sto qua. Io devo arrivare a essere anziano per capire che non mi sono mai mosso? Questa comprensione permette di gestire ogni movimento. Grazie. Ci fermiamo qui? Grazie. Ciao sono la libreria Cavour, iscriviti al canale ci permetterai di crescere. A breve inoltre potrai anche abbonarti e con un piccolo contributo accederai a tanti contenuti extra. Grazie del tuo sostegno